Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Scusate il poco preavviso, ma non mi ha dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò a voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta, ero stanco di come vi rapportate l'un l'altro. Ero stanco dei vostri sopprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali, dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra avidità, della vostra ipocrisia, del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi, alle vostre famiglie. Ero stanco della... Ero stanco della vostra ipositi. Grazie a tutti.